A voi è mai capitato di essere topizzati? A me è capitato. Sull'ultimo numero di Topolino, infatti, trovate un nuovo personaggio, che si chiama Max Topidoro. È un indagatore di misteri, anzi, come dicono pipetate, il ficcanaso scettico. E se avete dubbi su chi sia questo personaggio, qui c'è una bella scheda che tu spieghi. Insomma, un onore grandissimo. Io ringrazio davvero Topolino, Sergio Badino che ha scritto questa storia. Potete immaginare, è più di un premio Nobel per me. Grazie.